Si corre in campagna lo slalom Salerno Croce di Cava, decima tappa del campionato italiano slalom organizzata dal Rombo Team in collaborazione con l'Automobile Club Salerno. Quattro chilometri di percorso contro il tempo, pennellati tra mare e cielo, su un nastro di strada che sale all'ombra del castello medievale di Ereichi, affacciato sul golfo sottostante e su Salerno, città crocevia di culture ed etnie dolcemente adagiata sul suo esotico lungomare. A salire sul gradino più alto del podio della competizione è il campano Salvatore Venanzio, vero mattatore di giornata con tre vittorie, tutte quante vincenti in altrettante manche e corse al volante della sua Radical SR4 Suzuki. Per lui, unico pilota a scendere sotto il muro dei 170 punti, la salita migliore è la seconda conclusa nel tempo di due primi 49,17 centesimi. Sì, oggi fortunatamente è andato tutto come volevamo, la macchina ha risposto bene sia di assetto e di prestazioni e affidabilità. Dopo tanto tempo è arrivata di nuovo la vittoria che cercavamo e non ci possiamo lamentare. Seconda piazza per il corregionale Luigi Vinaccia su Osella PA 990 Honda, con il tempo di due primi 52,17 centesimi, fatto segnare al termine della seconda manche. Una gara per me è andata bene, un secondo posto va bene, però bisogna fare i complimenti a Salvatore Venanzio perché ha guidato forte, perché si vede che Puglisi e Schillaci, che sono bravissimi, stanno dietro, quindi la gara è molto particolare, tecnica e quindi io sono contento del risultato perché è una gara di 4 km, un percorso velocissimo, tecnico e impegnativo. Quindi per me siamo sempre là, una volta con il coefficiente 1 a 5 abbiamo vinto una gara a testa, una io, una Salvatore, una Michele, quindi bisogna vedere dalla prossima gara quando si deve scartare, qual è il risultato da scartare per ognuno di noi. Gradino più basso del podio per il siciliano Emanuele Schillace, al volante di una Radical SR4 Suzuki chiude le sue fatiche campane con un tempo che vale 173,16 punti. Quarto posto assoluto, terzo per la classifica di campionato per il campione italiano Slalom in carica. Il siciliano Michele Puglisi, che complice a un feeling con la sua Radical SR4 Suzuki, oggi non ottimale, riesce ad andare sotto i 177,69 punti. Sì, sapevo che sarebbe stata dura oggi, un percorso davvero difficile, non pensavo così così dura. Sono stato in difficoltà in tutte le masche, anche in relazione con la vettura che non mi permetteva di guidarla a dovere. Adesso non mi resta che sperare per le ultime due prove siciliane, dove cercherò di essere il più competitivo possibile in modo da riuscire a battagliare fino alla fine. Adriano Ricci, quinto assoluto, conquista la vittoria tra le vetture del gruppo E2 SS su Formula Gloria Suzuki, precedendo in classifica Donato Catano, che solo nell'ultima manche di una gara corsa in crescendo, al volante di una A112 Suzuki, agguanta la vittoria in gruppo E2 SH. Dietro di lui, settimo assoluto, Marcello Bisogno, fa suo il gruppo E1 Italia su Fiat 127, seguito in classifica assoluta da due piloti alla volante di altrettante vetture del gruppo E2 SH. Nell'ordine, ottavo Giuseppe Stefano Bocchetta su Fiat 127 Suzuki e nono Michele Sellitto su Fiat 126 Kawasaki. Chiude la top ten della classifica assoluta dello slalom Salerno Croce di Cava, Matteo Antonio De Cicco su Formula Gloria Kit Suzuki gruppo E2 SS. Mauro Paolillo, tredicesimo assoluto su Peugeot 106 Rally, sale sul gradino più alto del podio di gruppo speciale Slalom, dove la sfida tutta femminile per il tricolore vede Angelica Giamboi, prima tra le dame in gara su Fiat X19, avere la meglio su Rossella Papaldo, su Fiat 500. Lotta sul filo dei centesimi per la vittoria in gruppo VST, dove ad avere la meglio è Fabio Gargiulo, sedicesimo assoluto davanti a Giuseppe Esposito, entrambi su Kart Cross. Lo imita in gruppo N Raffaele Ferrara, il miglior under in gara su Peugeot 106, la stessa piccola della Casa del Leone con cui Giovanni Tuminiello si impone su Giacomo Benenati, al via su Renault Clio nella sfida tricolore di gruppo. Parlano francesi sia il gruppo Racing Start Plus, dove ad imporsi Antonio Marciano su Peugeot 106, sia il gruppo Racing Start, dove la vittoria va ad Angelo Di Luccio su Citroën Saxo VTS, davanti a King Dragon, primo per il tricolore su Mini Cooper S. Sono su auto italiane le vittorie tra le bicilindriche, tra i prototipi e tre le gruppo A. Tra le prime, gradino più alto del podio per Silvestro Fusco su Fiat 500. Tra i secondi, successo per Domenico Avitabile su auto bianchi a 112. Ad Alessio Ascione su Fiat Uno Turbo, la vittoria tra le vetture turismo. Ai margini della cerimonia di premiazione, grande la soddisfazione per la riuscita dell'evento. Una vera festa dei motori, espressa da Giovanni Caturano, direttore dell'Automobile Club Salerno. Un grande impegno sicuramente, ma una grandissima soddisfazione per un grande lavoro di squadra. Automobile Club Salerno ha voluto, con il presidente De Masi, tornare alle grandi grare, ma soprattutto tornare in città con questa gara. Campionale d'italiano slalom, quindi un grande impegno, un grande soddisfazione, ma soprattutto da domani ci mettiamo a lavorare per la prossima edizione del campionale di questa gara, dello slalom Salerno-Croce di Cava, per la 37esima edizione.